Buongiorno a tutti e buon mercoledì 20 gennaio 2021. Dio benedica la tua vita, Dio benedica il tuo lavoro e la tua famiglia, alleluia. Anche oggi vogliamo ascoltare due versetti della parola di Dio che troviamo nella prima lettera ai Corinzi capitolo 3 versetto 16 e nella prima lettera ai Corinzi capitolo 6 versetto 19. Dice così la scrittura non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Due meravigliose domande che ci pone la parola del Signore oggi ma il titolo di questa meditazione è il Tempio dello Spirito Santo sulla terra. Come scritto nella Bibbia lo Spirito Santo procede dal Padre e il Padre lo manda in nome del figlio suo Gesù Cristo. In seguito alla glorificazione di Gesù nel giorno della Pentecoste sui discepoli riuniti si avverò la promessa riguardante la discesa dello Spirito Santo venuto sulla terra per abitare in ogni singolo credente e nella chiesa del Signore. Questi versetti indicano chiaramente quale sia il Tempio dello Spirito Santo sulla terra. Non si tratta di una costruzione umana o di un edificio in particolare. Il credente riscattato dal sangue di Cristo nato di nuovo per la fede nell'opera di Gesù è egli stesso il Tempio dello Spirito Santo. Ne è suggellato e ne ha l'unzione secondo ciò che è scritto in Efesini 1.13. Avendo creduto in lui, in Gesù Cristo, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Anche il più giovane e semplice convertito possiede questo privilegio. Come leggiamo in questo versetto, quanto a voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza. L'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi. In Lui, in Gesù Cristo, voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. In questo passo, che presenta l'aspetto collettivo di questa verità, il Tempio dello Spirito Santo è l'insieme dei credenti e la Chiesa di Dio sulla terra. Tale dimensione collettiva emerge pure dal concetto di legame diretto con Dio che troviamo in 2 Corinthians 1, versetti 21 e 22, che dice così Colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha uniti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ritornando al titolo di questa meditazione, il Tempio dello Spirito Santo sulla terra. Cosa ci serve? Sapere che lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, abita dentro di noi e quindi il nostro corpo è la dimora di Dio. Semplice, ci fa comprendere che noi dobbiamo trattare bene il nostro corpo e non dobbiamo esporlo a dei dei trattamenti pericolosi, quale potrebbero essere l'alcol, la droga, la sigaretta stessa. Sai quante volte mi hanno detto ma la sigaretta non è peccato, non è scritta in nessun posto nella Bibbia. Ah no? Però questo verso ci dice che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, dove abita lo Spirito Santo, dove dimora lo Spirito Santo. Quindi se noi roviniamo questo Tempio, stiamo rovinando il Tempio di Dio, quindi fumare è peccato. Mi dispiace se ti ho dato una brutta notizia. E poi c'è un altro concetto che tante volte si parla, quando si nomina la parola chiesa, si pensa a un locale, si pensa a una struttura, a un edificio dove i credenti entrano lì e adorano Dio. Invece in questo versetto che abbiamo meditato oggi, lo Spirito Santo ci rivela una verità, che la chiesa non è un edificio, non sono le mura, non è una struttura, non è un locale. La chiesa è formata dai credenti, ma non dai credenti qualsiasi, ma dai credenti nati di nuovo, coloro che hanno accettato Gesù Cristo nel proprio cuore, hanno ricevuto il dono della nuova nascita e loro fanno parte della chiesa, la vera chiesa, la sposa di Cristo Gesù. Quindi vede, leggendo la Bibbia si scoprono tante cose. Io le ho scoperte strada facendo ed è una scoperta continua. In nove anni non mi sono stancato mai di leggere e di meditare perché ogni giorno mi rivela qualcosa di nuovo. Quindi l'esortazione che voglio farti è questa, fratello, sorella o amico o amica che tu sia, medita la parola, concentrati di più sulla parola perché essa è una lampada per la nostra vita, è una luce sul sentiero che abbiamo intrapreso che è quello della santificazione. Detto questo io ti saluto, ti auguro una buona giornata, che Dio benedica grandemente la tua vita e l'intera tua famiglia. Shalom!